vi starete chiedendo chi sono? facciamola a breve, ho accarato il canale di Midino quindi per un po' non vedrete lui ma vedrete me no sta scherzando ragazzi sono Zodiac per chi non mi conosce tra un po' vedrete le cazzate che faccio su Call of Duty se volete il mio link del canale in descrizione ma torniamo a serie allora raga Midino mi ha concesso questo piccolo spazio, ha fatto qualcosa per me a sto giro facciamo noi qualcosa per lui, lasciate un sacco di mi piace a questo video e facciamoli vedere che ci siamo, chiudiamo in bellezza questo Black Ops 3 e via col video bella raga iscriviti al canale 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 è venuta bella mamma mia sono crisi piaccio grazie per finire in un video non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo no questa è la carica non ci credo 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 oh ma Grande cazzo Grande Grande cazzo Quattro clip porco giuda Cinque clip Guarda che cazzo di carambola porca puttana Oddio Oddio mi ha fatto spaventare Mi ha fatto spaventare aiuto Che culo Che culo sul cerchio di istruggi diretto Oddio Che culo Che culo Che culo Che culo Che culo